La benedizione a tutti questi mezzi che proprio portano fertilità alla terra, la quale ci sostenta e governa e produce frutti, fiori ed erba. Proprio che San Francesco benedica tutti voi che operate, guardando la terra proprio come una mamma che custodita porta tanti frutti. E benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti.